Ho scritto una cosa stamattina, ho chiamato la mia segreteria e ha contattato i ragazzi che incontrano in settimana, sono andato all'inaugurazione, li aiuteremo a non mollare e tra l'altro con loro stavamo anche facendo un lavoro importante di adozione del vicolo vicino al negozio, di riqualificazione, quindi questo sarà uno sprone ad andare ancora più nella direzione giusta, il bene batterà il male e soprattutto condotte così miserabili saranno sconfitte dalla parte sana della città che è la stragrande maggioranza.